Io sono un immunologo e molti mi chiedono, ma possiamo aiutare il sistema immunitario a tavola? Altro che se possiamo, è una delle cose più importanti. Perché? Perché intanto a tavola riusciamo a avere in mano nel nostro organismo, direi, vitamine e minerali attraverso quello che mangiamo che sono la base del funzionamento delle nostre cellule difensive. La nostra produzione di anticorpi, da un lato, ma anche la capacità delle singole cellule di opporsi a delle situazioni, soprattutto se pensiamo all'inverno, in cui virus, batteri e inquinanti entrano nel nostro organismo. E questo è uno. Il secondo è proprio una indicazione, come dire, sembra di parlare di giocare a risico, perché in realtà se io ho tutte le mie, come dire, le mie truppe schierate, ad esempio, sull'intestino, a difendersi da uno stimolo infiammatorio legato alla ripetizione costante degli alimenti, ad un'alimentazione monotona, priva di sostanze crude, vive e vitali, ecco che, ovviamente, sugli altri fronti, al fronte occidentale o al fronte orientale, a seconda di come preferite, che possono essere, guarda caso, le orecchie, il naso, la bocca, dove i bambini o gli adulti si ammalano facilmente, le difese sono scarse e di difficile attuazione. Ecco perché, attraverso la giusta integrazione, attraverso la giusta e personalizzata dieta, attraverso lo studio dell'infiammazione, possiamo aiutare assolutamente, attraverso l'alimentazione più corretta e soprattutto personalizzata, a migliorare la funzione globale del sistema immunitario e aiutarci a superare brillantemente l'inverno. Grazie! Grazie!